Iniziate oggi per concludersi domani le manifestazioni degli scout di Alcamo per celebrare il giubileo attraverso un simbolico pellegrinaggio che li porterà ad attraversare una delle due porte sante presente ad Alcamo nella Basilica Santa Maria Assunta. Gli scout aggesci dei gruppi Alcamo 1, 2 e Alcamo 4 hanno accolto l'invito della Chiesa del Papa. Approfittando della celebrazione della settimana internazionale dello scoutismo, gli scout di Alcamo saranno impegnati in una densa due giorni di attività ed eventi. L'evento culminerà con la celebrazione della Santa Messa domani domenica 21 febbraio alle ore 10.30 presso la Chiesa Madre, preceduta dal pellegrinaggio che aveva inizio alle 9 presso la Chiesa Santi Paolo e Bartolomeo a cui sono invitati, dicono i promotori, tutti gli scout e coloro i quali lungo la propria vita hanno fatto parte di questo movimento.